Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vorrei fare uno step indietro per dare un po' un quadro di come funzionano realmente i mercati. Da un certo punto di vista, secondo me, permettetemi la digressione, è un po' triste, però questa è la realtà, perché in passato non funzionava così, cioè in passato le economie, i mercati funzionavano sulla base di quello che erano le aziende, di quello che era la loro validità, sempre di più nel tempo, in questi vent'anni che opero sulla borsa, le borse sono cambiate e soprattutto l'intervento di organismi esterni, quali le banche centrali, che una volta non si sentiva mai, sono diventate predominanti e questo inevitabilmente ha cambiato il modo di operare sui mercati. Da un certo punto di vista l'ha reso più semplice, da un altro punto di vista, secondo me, l'ha impoverito, perché è diventato più simile a un gambling piuttosto che a un qualcosa dove c'è dietro uno studio, dove c'è dietro un approfondimento, dove ci sono dietro delle logiche economiche. Però, vabbè, sono un nostalgico, abbiate pazienza. Detto questo, volevo fare un attimo con voi una panoramica per aiutarvi a comprendere come funzionano a livello macro le borse e soprattutto in che situazione ci troviamo oggi. Allora, come vi ho fatto vedere nel grafico del Giappone, questo è un esempio, se la banca centrale inietta del denaro nel mercato, o prima o dopo la banca centrale vince. Vince perché inonda il mercato e questa inondare il mercato, quindi questo aumentare il budget, o perché, come ha fatto la banca centrale giapponese, direttamente ha comprato azioni, o perché ha dato maggiori diluizioni di denaro alle banche, o per mille ragioni, questo denaro viene a entrare nel sistema finanziario e quindi fa salire le borse. Quindi abbiamo notato che la banca centrale giapponese ha buttato dentro un sacco di denaro e oggi la banca centrale giapponese e oggi la borsa giapponese si trova su dei massimi storici assoluti. Dovuto all'economia? Assolutamente no. Dovuto dal quantitativo di liquidità che entrerà dentro. Quindi, primo riflessione. Facciamo una carrellata per cercare di vedere cosa sta succedendo a livello globale. Ricordo che le banche centrali, negli ultimi 12 anni, hanno buttato dentro denaro. Quindi questo è questo messaggio che è passato. È passato un messaggio per cui ormai ci si è abituati al fatto che ci siano sempre dei buy on dip. Perché? Perché le banche centrali hanno sempre buttato del denaro. Quindi ogni volta che il mercato ritracciava, loro continuano a buttare denaro ed effettivamente il mercato continuava a salire. Però attenzione, perché come dico da un po' di tempo, il paradigma è cambiato. Il paradigma è cambiato, siamo entrati in un periodo diverso. Semplicemente il mercato se ne deve ancora accorgere. Però non necessariamente in futuro il buy on dip sarà matematico. O perlomeno non lo sarà finché le banche centrali non torneranno a ributtare dentro denaro. Adesso facciamo un po' una panoramica. Allora, da una parte abbiamo la banca centrale giapponese. L'economia cinese, grande difficoltà. La borsa cinese è scesa in maniera molto forte, molto perentoria. E quindi la banca centrale cinese, come hanno fatto molte altre banche, sta cominciando ad aumentare in maniera esagerata il suo budget. E quindi cosa succederà? Che in questo caso qua, prima o dopo, vincerà. Vincerà e la borsa cinese salirà. Il punto è, noi non sappiamo quando. Però, se dobbiamo mettere in uno scacchiere di cosa stanno facendo le banche centrali in relazione alle borse, abbiamo che la borsa cinese è nella situazione migliore. Perché si trova dei prezzi molto bassi con la banca centrale che sta spingendo. Questo è un primo punto. Secondo punto abbiamo la banca centrale giapponese. La banca centrale giapponese è una di quelle che ha fatto il quantitativision più grande e duraturo della storia e sta valutando di uscire da questa politica. Farà lentamente, farà quel che si vuole, comunque non butta più dentro denaro, ma dovrà far fuoriuscire del denaro. E quindi è evidente che la situazione di rischio nell'investire oggi nel mercato azionario giapponese è evidentemente molto elevata. Questo non vuol dire che il mercato giapponese deve crollare, non vuol dire che deve farlo domani, ma che se uno ha investito nel mercato giapponese può aver senso prendere profitto o ridurre la sua esposizione. Perché? Perché la banca centrale giapponese sta cambiando, o comunque ha in mente, di cambiare la sua politica. Questi non sono dei cambiamenti che vengono dallo giorno in domani, ma sono un cambio di trend. Quindi nella gestione del rischio uno deve tenere conto di questa dinamica. Poi abbiamo l'Europa. In Europa il bilancio si è cominciato a ridurre e dalla 30 di giugno ci sarà un'ulteriore riduzione di questo bilancio con la conclusione del PEP, cioè del piano pandemico. Quindi anche in Europa abbiamo una riduzione del bilancio e dall'altra parte abbiamo il DAX che fa dei massimi storici. Questo perché accade in generale? Accade perché nell'unione tra la speculazione e quello che succede nel quadro intermarket ci sono dei disallineamenti temporali e spesso e volentieri succede che i fenomeni di fine di un movimento finiscano con delle esplosioni. Quindi si cerca di prendere il massimo che si ha e poi dopo si fa retromarche e si ha un trend nuovo in inversione negativo che durerà poi nel tempo fino a che? Fino a che di nuovo la banca centrale non deciderà di rientrare sul mercato. Quindi quello che stiamo per esempio vedendo sul DAX è la stessa cosa che vediamo sull'indice giapponese. L'indice giapponese secondo me è più esagerato nella sua dinamica, però la logica è questa. Cioè il DAX è un'economia in recessione, cresce sparando tutte le cartucce che ha e dall'altra parte abbiamo un bilancio che va mano a mano a ridursi. Questo nel medio termine provocherà inevitabilmente una discesa anche del DAX. Noi non sappiamo solo quando, quindi non bisogna incaponirsi, andare contro il DAX, eccetera, eccetera. Bisogna semplicemente avere la consapevolezza del quadro in cui ci troviamo. Cioè stiamo comprando un qualcosa che sta salendo, può salire ancora, ma si trova nella fase finale del movimento. Poi abbiamo l'America. L'America è un annetto, anche lei, che riduce in maniera molto sensibile il suo bilancio, forse di più anche dell'Europa, quindi è quella che è più amante di tutti, e però dall'altra parte siamo negli Stati Uniti, è vero che c'era anche un eccesso di liquidità molto più elevata rispetto ad altri paesi, però inevitabilmente sta continuando a contrarre liquidità. Anche se una parte di questa la ridà sotto altre forme alle banche, anche questo sta andando a terminare. Quindi comunque siamo in una fase non espansiva, ma in una fase di contrazione, mentre l'indice azionale ci sta raccontando che siamo su dei massimi e che vuole continuare a spingere. Questo più o meno è il quadro intermarket su cui ci stiamo andando a muovere. Questo non vuol dire, lo ripeto miliardi di volte, che dobbiamo andare short sugli indici, ma vuol dire che ci deve dare la consapevolezza che nel momento in cui stiamo investendo e che succede o succederà qualcosa di particolare, dobbiamo sapere che potrebbe essere qualcosa di perdurante nel tempo, perché il quadro intermarket ci sta raccontando questo. In aggiunta di questa abbiamo un'altra dinamica, secondo me anche questa è interessante, arriviamo da dieci anni di tassi molto molto bassi. I tassi si sono risvegliati, sono risaliti, poi sono ritracciati e adesso stanno di nuovo rialzando la testa. Ma le dinamiche quali sono? Che ci troviamo di fronte a degli aumenti dei debiti molto elevati da parte degli stati, da parte di tutti quanti le corporate, e dall'altra parte quindi abbiamo dei rendimenti che inevitabilmente devono salire. Devono salire perché c'è una evidente differenza tra quello che lo Stato deve collocare e quello che possono essere i compratori. Questo non si è ancora visto in maniera super eclatante, si è visto nella prima parte, nella salita di tassi a breve, non si è ancora vista sulle salite a lunga, perché deve esplodere, deve succedere qualcosa affinché questo possa avvenire. Però il quadro intermarket come direzione ci dice attenzione perché il debito a lunga deve salire e deve rendere molto 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 di più. Quindi oggi siamo in una fase di non corretta valutazione. Può continuare? Assolutamente sì, però noi nel nostro quadro dobbiamo valutare qual è il corretto positioning. Perché? Perché nel medio termine tutte queste dinamiche vengono poi ad allinearsi. Semplicemente quando poi decidono di farlo lo fanno in maniera inaspettata, in maniera molto violenta e quindi ognuno di noi deve avere un piano, un piano non deve anticipare, ma deve avere un piano per saper gestire queste dinamiche. Quindi in super conclusione fate attenzione perché ad oggi l'unico paese al mondo che ha una politica espansiva è la Cina e tutti gli altri hanno una politica di natura restrittiva che è un setting intermarket rispetto agli ultimi 12 anni completamente diverso. Quindi bisogna sempre pensare nel nuovo setting, non vivendo nel passato. Perché se io faccio delle statistiche che si basano su un quadro intermarket vecchio con tassi a zero, politiche espansive eccetera eccetera, diventa tutto fantastico. Il motivo per cui anche la riflessione che dobbiamo fare su Bitcoin per esempio è proprio questa, cioè spesso si parla dell'alving, bellissimo, l'alving vuol dire che noi nel prossimo ciclo verranno emessi meno Bitcoin rispetto al passato. Bellissimo se siamo in una fase espansiva, cioè se tutto il mondo emette moneta e tu ne metti di meno il tuo valore sale. Ma se tutto il mondo riduce il suo quantitativo di moneta, tu semplicemente seguirai il resto perché continuerai ad emettere moneta, ne metterai un po' di meno ma andrai a scendere. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in un quadro intermarket il tema dell'alving funziona nel medio e lungo termine perché? Perché si sconta il fatto che le banche centrali stampino sempre, questo probabilmente è vero. Però ci sono delle fasi, dei periodi in cui questi possono ridurre il quantitativo di denaro che stampano o che emettono sul mercato e questo è uno di questi. Quindi se noi ci troviamo in questa fase bisogna prestare attenzione. Mentre se ci trovassimo di nuovo verso una fase super espansiva, dobbiamo stampare, crisi economica, eccetera, eccetera e il Bitcoin fosse nel momento del alving allora sarebbe molto interessante perché mentre il mondo stampa un milione, tu stampi 10 e è evidente che il tuo valore è molto 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 elevato. Ma oggi non ci troviamo in questa condizione. Ci troviamo in una condizione in cui arriveremo a stampare di meno di Bitcoin ma se il mondo continua a contrarre, esempio il Giappone decide piano piano di cominciare a ridurre il suo bilancio unito a quello degli Stati Uniti, unito a quello dell'Europa e viene da sé che solo la Cina non ha nel suo bilancio complessivo a livello mondiale una politica espansiva. Ma andiamo in una fase restrittiva. Queste sono politiche lunghe che richiedono dei tempi, anche un anno, due ma dopodiché vengono ad allinearsi, però poi sono micidiali. Quindi prestate attenzione, cercate di cominciare a pensare, a ragionare che il futuro, soprattutto questo tipo di futuro che andiamo di fronte sarà completamente diverso dal passato che abbiamo visto recentemente. Siamo entrati inevitabilmente in un ciclo differente.